Natale con i tuoi, comincia dalla tavola, la scelta vincente, MC Catering, naturalmente, un vero e proprio paradiso per deliziare il tuo palato, le migliori specialità di carne, pesce fresco e congelato, per un menu da leccarsi baffi e per i tuoi regali, una vasta scelta di ceste natalizie. MC Catering, un buon Natale, comincia dai suoi sapori. Auguri! 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 Auguri da MC Catering!